sospensione step asse luci nella confezione troverete i sei vetri e la montatura con pomelli e guarnizioni si inizia subito svitando i pomelli dalla montatura lasciando le guarnizioni vicino come prima cosa da fare io consiglio sempre la regolazione dei fili che si fa attraverso il coprifilo tramite le viti che ci sono da sopra se si svita e si preme il filo sale scende una volta trovata l'altezza basta avvitare seconda cosa si parte subito dai vetri il vetro aderisce direttamente alla montatura e dall'altro lato vanno avvitati i pomelli con le guarnizioni facendo sempre soltanto con le mani senza uso di pinze non stringete troppo in modo che il vetro non va in una volta completato il montaggio dei vetri la sospensione è pronta per essere appesa al soffitto durante la fase dell'installazione al soffitto consiglio sempre di essere almeno due persone una che collega i fili è un'altra che mantiene da sotto la sospensione mettendo le mani giusto al centro della sospensione ovvero sulla montatura e non sui vetri se avete acquistato la versione con cristalli nella confezione troverete anche i cristalli ovvero sono sette strisce di cristallo di cui sei più corte ed una più lunga si procede dopo l'installazione al soffitto della sospensione partendo dalla striscia più lunga che va giusto al centro e le restanti sei intorno una volta completata l'applicazione dei cristalli la sospensione è completa mi raccomando come già detto prima usate solo le mani senza l'uso di pinze grazie 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 a tutti.